Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, oggi parleremo di un tema assolutamente vitale per la stessa sopravvivenza della razza umana sul pianeta Terra, e sto parlando delle figure retoriche. La figura retorica di cui parleremo oggi è il cleoasmo, molto bella secondo me, deriva dal latino cleoazo, che significa diminuisco oppure sminuisco, ed è appunto una figura retorica che consiste nell'atto di sminuirsi, cercando così, con questa professione di umiltà, di attirarsi le simpatie dell'uditorio. Un esempio celeberrimo è quello di Manzoni, nei Promessi Sposi, che dice, pensino ora ai miei 25 lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto quello che si è raccontato. Lui sapeva che i lettori non erano 25, ma sarebbero stati probabilmente 25 miliardi, però appunto ha fatto questa professione di umiltà per attirarsi le simpatie del lettore. Oppure il famosissimo So di non sapere di Socrate, ecco Socrate sapeva benissimo di sapere moltissimo, ma anche qui ha usato un cleoasmo per attirarsi le simpatie dell'uditorio. Oppure per esempio, per utilizzare un esempio meno dotto, che magari ci può capitare tutti i giorni, allora il nostro capo dice una cazzata, perché magari è proprio un imbecille to cure, oppure perché magari pur essendo bravo in quella particolare, nell'affrontare un particolare problema, secondo voi sbaglia, ecco non potete dirgli, guardi che secondo me ha detto una cazzata, allora usate magari un piccolo cleoasmo e gli dite, guardi, nonostante il fatto che lei abbia una grandissima esperienza e quindi sicuramente avrà valutato questo problema in modo accorto, bla bla bla, mi permetto di farle notare dalla mia invece piccola esperienza che è bla 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 e così magari avete ancora un lavoro il giorno dopo, fate il bene del business e appunto correggete anche un errore del vostro capo. Bene, non è invece un cleoasmo il motto del mio sito, quindi cerco di sollevare, nel mio sito, scusate del mio canale, quindi cerco di sollevare me stesso dalla mia profonda ignoranza perché appunto di fronte a tutto quello che si può conoscere, diciamo allo scibile umano, ecco mi sento un grande ignorante, però questo mi porta, mi spinge a volerne sapere sempre di più e con questi piccoli video condividere con voi queste mie scoperte. Bene, spero che abbiate trovato questo video interessante, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao a tutti e alla prossima!